Cucina In è nata da un'idea mia e dei miei soci. Volevamo una scuola di cucina per appassionati, grandi e bambini, dove ad insegnare però fossero dei veri chef, dei veri chef che normalmente trovereste solo in una scuola professionale. Quello che ci distingue dagli altri è la volontà di condividere l'amore e la passione per il nostro lavoro anche con chi non ha mai partecipato a un corso di cucina o con chi addirittura con i fornelli si sente un po' in imbarazzo. È questa volontà di essere davvero per tutti la caratteristica che ci rende unici. I nostri studenti vanno dal bambino che letteralmente sta imparando da zero al nonno che ci ha scoperto andando a fare la spesa al supermercato di quartiere. Ho iniziato a seguire i corsi Formaper con l'obiettivo di ampliare la mia visione del settore turismo, aggiornandomi su questo comparto di cui anche la mia azienda fa parte. Per me era molto importante rimanere in un contesto di informazioni chiare e pratiche, che sono anche quelle che servono a un'azienda delle dimensioni di Cucina in. Alla fine questo è proprio quello che ho trovato e ne sono rimasta molto soddisfatta.